Il Ministro Maroni oggi a Bergamo nel Palazzo della Provincia per un incontro particolare con la protezione civile bergamasca. Perché questa visita, Ministro? Ma ho voluto venire per ringraziare tutti i volontari della protezione civile, la provincia, le istituzioni per quello che hanno fatto, per l'impegno che hanno profuso e per dimostrare loro che le istituzioni, il governo è vicino e che riconosce nella struttura della protezione civile il sistema più efficace per prestare soccorso ai cittadini quando sono in difficoltà. Il volontariato è la forza del sistema di protezione civile che è organizzato su base nazionale ma soprattutto su base regionale e sul territorio. Il presidio del territorio da parte dei volontari dell'organizzazione della protezione civile è la forza del sistema di protezione italiana.